Buon salve a tutti e ben ritrovati sul canale. Oggi sono qui per rispondere ad una richiesta che mi avete fatto per settimane, ovvero dirvi la mia sul Vampiro di Franco Mistrali. Perché? Perché è un libro che incuriosisce sicuramente, perché è un testo del 1869 e soprattutto perché è il primo romanzo, pare, che parla di Revenant scritto in Italia. E noi, ovviamente, per amore di ricerca, leggiamo tutto quanto quello che si è scritto sui vampiri, soprattutto se è in italiano. È un testo che abbiamo la fortuna di poter trovare nuovamente sugli scaffali delle librerie, in biblioteca, perché è una riedizione che ha realizzato, edizione arcoiris, per la collana La Biblioteca di Lovecraft, che è appunto una parte, una sezione dedicata proprio alla letteratura gotica e macabra. Io sono veramente felicissima perché non conoscevo questo testo e dunque ho avuto l'opportunità di scoprire un nuovo autore e una nuova parte della letteratura italiana che ancora non avevo sondato. Quindi, per quanto mi riguarda, avere nuovamente questo libro a disposizione è una grandissima vittoria. In questo video approfondimento tenterò di essere quanto più chiara possibile e snocciolare insieme a voi quelle che sono le caratteristiche proprio di questo testo, Il vampiro, storia vera di Franco Mistrali. Perché, udite udite, a mio avviso questo non è un romanzo che fa per tutti quanti. Innanzitutto, la motivazione principale è che chiaramente questo testo si rifà ad una nicchia specifica, quindi si rivolge a un pubblico che legge letteratura fantastica, macabra e gotica. Questo non vuol dire, ovviamente, che non sia rivolto a tutti quanti, anzi, se siete punk e vi va di leggere, ovviamente, spaziare con i generi, potete farlo tranquillamente. Il punto è che questo è un testo molto molto particolare, perché non si rivolge soltanto a chi legge letteratura gotica. Qui ci troviamo davanti a un romanzo scritto nel 1869, vale a dire che la struttura frasale, il linguaggio utilizzato e anche la costruzione dell'intreccio hanno un senso molto diverso rispetto a quello che è il romanzo contemporaneo. Quindi, oltre a rivolgersi a coloro i quali leggo no gotico, questo testo si rivolge soprattutto a chi ha già letto, secondo il mio modestissimo parere, qualche altro testo di narrativa gotica fantastica appartenente proprio all'Ottocento italiano. Esempio scapigliatura, esempio Tarchetti. Questo significa che non potete leggerlo o non potete capirlo? Assolutamente no, ovviamente. Però cercherò di darvi degli spunti di riflessione per comprendere appunto se questo testo possa fare al caso vostro, perché ci vuole un po' di accortezza, altrimenti diversi dettagli, riferimenti culturali, riferimenti linguistici potrebbero sfuggirvi. Ed è un peccato perché questo è un testo assolutamente ricchissimo, proprio colmo di cultura, colmo di un patrimonio sia artistico che linguistico assolutamente inebriante, secondo me. Partiamo dicendo che il 1869 per l'Italia è stato un anno particolarmente proficuo per la produzione letteraria. Innanzitutto nel 1869 nasce uno dei miei romanzi preferiti ad opera, tra l'altro, di uno degli autori che stimo maggiormente dell'epoca, ovvero Iginio Ugo Tarchetti con Fosca, che venne pubblicato a puntate nella rivista Il Pungolo. Già solo per questo io trovo quell'anno veramente un tesoro per la letteratura italiana tutta. E in più venne pubblicato appunto Il Vampiro di Franco Mistrali. Franco Mistrali è stato un intellettuale sicuramente sui generis e soprattutto ha avuto una vita molto frenetica e abbastanza insolita. E tra l'altro fu anche accusato di bancarotta fraudolenta e chiuso in carcere per cinque anni. Quindi diciamo che non se ne è fatta passare nessuna sotto il naso e le ha prese tutte di petto. Dalla mente contorta e molto acuta di questo intellettuale esce fuori una produzione letteraria molto vasta, tra cui racconti di tipo appunto Macabro e Fantastico e il romanzo Il Vampiro, storia vera. C'è da fare una precisazione. Nel 1869, periodo in cui scriveva Franco Mistrali, non esistevano tutte le opere di vampiri che siamo abituati oggi a leggere e che conosciamo. E voi direte grazie al cavolo. No, perché fondamentalmente non era stata ancora scritta né Carmilla, capolavoro della letteratura, ne abbiamo già parlato sul canale, tutti i link riferimenti giù, e Dracula, perché questo testo nasce proprio prima, molti anni prima, rispetto a questi due romanzi. Quello che Mistrali aveva a disposizione per scrivere Il Vampiro erano sicuramente tutte le storie del folclore che aveva appreso, quindi le leggende dei Balcani, comunque di paesi che stavano ad est, perché erano i paesi in cui maggiormente era presente questa figura a livello proprio folclorico. E in più erano uscite poche produzioni che si rifacevano alla figura del vampiro, di cui nel 1819 Il Vampiro di John William Polidori. Anche in questo caso ne abbiamo parlato, link su nelle schede giù nell'info box. Quasi certamente Franco Mistrali ebbe modo di leggere Il Vampiro di Polidori, perché venne pubblicato in Italia, quindi l'edizione italiana, è del 1831. E poi abbiamo ovviamente anche tutta l'esperienza dei Penny Dreadful, ovvero quelle riviste di epoca vittoriana che per un Penny davano accesso ad una serie di racconti, sì, macabri, che non valevano moltissimo, e infatti erano stampati su carta straccia ed erano indirizzati pressoché al proletariato. Da questi Penny Dreadful vennero fuori una moltitudine di opere, ancora oggi famose, tra cui Varney Il Vampiro. Il problema è che noi non sappiamo effettivamente se Mistrali ebbe modo di leggere questa produzione perché è stata tradotta in italiano solo qualche decennio fa. Io non ho trovato informazioni sul fatto che Mistrali, insomma, avesse modo a livello proprio linguistico di accedere anche a fonti straniere. Ovviamente Franco Mistrali ha avuto accesso anche a poemi di byroniana memoria e ad altre esperienze letterarie che hanno inculcato nella cultura la figura del vampiro che poi si è andata perfezionando nel corso del tempo. Se pensate di leggere Il Vampiro di Franco Mistrali perché credete di trovare una figura vampirica, il succhiasangue, vestito nel suo abito di broccato e che viaggia di notte nel suo mantello nero per mietere le sue vittime, beh, state sbagliando proprio testo. Perché questo elemento nel romanzo di Franco Mistrali è manchevole. Innanzitutto, ve l'ho appena accennato, perché presumibilmente le fonti da cui ha preso spunto Franco Mistrali erano comunque relativamente limitate. E in secondo luogo perché lui era italiano e quindi ha abbinato a questo suo romanzo gotico il sentire della nostra penisola che all'epoca non aveva accolto con molti favori questo nuovo genere e questo sentire romantico così macabro. Per quanto riguarda la trama faccio qui un sunto. Posso dire che è molto articolata. Diciamo che Mistrali mette tutto quello che vuole mettere sale e pepe in abbondanza arrivando spesse volte a partorire passaggi simili alla soppopera che però ben si sposano ai temi, agli elementi di carattere molto profondo dell'opera stessa. Vi leggo di fatti questo passaggio per farvi capire anche il tiro un po' del testo. D'altronde gli uomini sono ancora troppo tristi. Invece di correggere il male e convertirlo in bene essi si servirebbero della scienza per moltiplicare la corruzione. Ciò è purtroppo già accaduto. Il testo inoltre è scritto in prima persona. Questo perché Mistrali ci vuole raccontare di un'avventura accaduta a lui o comunque a un suo alter ego nel 1862 quando si trovava a Monaco. Nel Principato di Monaco ebbe modo di incontrare un conte polacco molto ricco ovvero il conte Alfredo Costia che oltre ad essere molto facoltoso e istruito tanto che ospita per lunghissimo tempo il nostro protagonista era molto turbato ed era malato, se così si può dire, di malinconia. Egli crede infatti nella presenza degli spiriti e sente la presenza costante dei redivivi e per questa ragione spiega con la sua mente da intellettuale anche quella che è la sua idea riguardo il mondo tutto. Secondo il conte Costia infatti il regno dei vivi e quello dei morti non sono su piani diversi bensì vengono a fondersi in un unico solo che si riescono a percepire l'un l'altro soltanto in momenti particolari dell'esistenza. E inoltre un accanito sostenitore della reincarnazione. Di fatti secondo lui l'anima col peso delle vite precedenti si reincarna continuamente all'interno di altri corpi. Da dove gli vengono queste certezze? Da quando il nostro protagonista si trova all'interno della villa ha potuto notare un grande quadro che è presente nel soggiorno. È un ritratto di una donna bellissima vestita di bianco che sembra quasi un'ofelia in punto di morte. E il conte Costia dirà che è l'irritratto del suo amore perduto ovvero Pia Ludviscoa spero si pronunci così che è venuta a mancare prematuramente. Un giorno i due si trovano a passeggiare e incontrano come per magia una donna che è uguale alla Pia Ludviscoa ma assolutamente non sembra lei all'apparenza cioè è uguale nel fisico ma non nello spirito. Quella è infatti la principessa Metella. Da qui verranno a susseguirsi una marea di peripezie che ci porteranno da Monaco alla Polonia alla Siberia alla Russia anche in Italia. Avremo quindi avventure drammatiche indicibili e atrocità senza fine. Insomma una tragedia dopo l'altra. Mi fermo qui con la trama perché altrimenti vi spoilererei tutto quanto e non sarebbe ecco carino da parte mia il resto lo lascio scoprire a voi. Da questo punto in poi e cioè da quando ebbero l'incontro funesto con la principessa Metella il romanzo si arricchisce tantissimo a livello contenutistico e infatti proprio da qui partono le dissertazioni sui vampiri che vengono descritti anzitutto sotto il punto di vista folclorico e dopo in modo scientifico e talvolta anche scientista. Troviamo un piccolo passaggio a pagina 50 in cui Mistrali descrive proprio l'idea del vampiro. Vampiro lo sapete è il bevitore di sangue spettro sepolcrale esce dai cipiteri la notte ravvolto nel suo sudario e va in cerca delle vittime addormentate penetra nelle stanze come un fumo inconsistente di preferenza gitta il suo amor fatale sulle giovani creature anche il vampiro fu uomo donna e conserva la memoria dello stato primiero. Questo ovviamente continua per lunghe pagine. Questo avviene perché il nostro protagonista che è completamente scettico si lascia coinvolgere dal sentire del conte Costia facendosi trasportare in questa storia che dà origine a un romanzo assolutamente allucinato ricco comunque di filosofia esistenzialista e riflessioni molto importanti sulla ragione dell'esistenza e sulla morte. Sappiamo comunque per certo quali sono i riferimenti letterari di Franco Mistrali semplicemente perché ce li scrive egli stesso nel testo ovvero Hoffman, Poe, Foscolo, Victor Hugo e anche Byron. Byron viene lodato moltissimo da quest'autore. Nonostante il percorso di questo testo sia molto misterioso e anche l'intreccio si manifesta un po' come trascendente il tutto però è coperto da un'aurea sempre un po' prosaica che tenta di dare modo al lettore di comprendere che ciò che sta leggendo è una storia vera. Difatti il sottotesto del romanzo è storia vera. Mistrali sottolinea in questo modo il fatto che il testo è completamente immerso nella storia con la S maiuscola. Tant'è che ci porta anche nella Russia zarista sottolineando questioni politiche sollevate dal popolo che voleva distruggere l'impero degli zar. Tra l'altro anticipando di qualche anno ciò che avverrà ai Romanov a causa di Rasputin. Anche in questo testo abbiamo la presenza di un santone alchimista chiamato Eliam. Ci parla inoltre anche della storia italiana di cui egli ci accenna qualcosa rispetto appunto alla politica e alla religione. E infatti egli ci scrive i legislatori italiani procedono per diverse vie e sono arrivati persino al macinato e al contatore. I poeti futuri potranno comporre una malinconiosa ballata sul tic-tac del meccanismo ingegnoso destinato a contare con l'esattezza del pendolo le bricciole del pane che il povarello raccoglie col sudor della fronte dalla mensa del ricco. Quando vi dico che il fantastico italiano ha un tipo di rappresentazione molto diversa rispetto a quella che abbiamo visto ovviamente fuori dall'Italia quindi specialmente prevalentemente nei paesi anglosassoni mi riferisco proprio a questo tipo di tema a questo tipo di fusione della presunta presenza di elementi di natura fantastica e sovrannaturale ma collegati assolutamente incollati proprio alla terra d'origine e soprattutto alle problematiche italiane. Una delle cose che non ho apprezzato del testo che si rifà proprio a questo discorso che vi ho appena fatto è la virata verso la Russia perché molte divagazioni sulla storia della Russia e sulla politica della Russia per il mio modestissimo parere sono veramente troppo pesanti e generano un po' una macchinosa lentezza all'interno della narrazione questo quindi per me è un punto di demerito nonostante comunque da un lato alcune divagazioni fossero comunque interessanti e hanno dato modo a me di scoprire cose che chiaramente non conoscevo specialmente di quell'epoca. Tutto questo come vi ho già detto avviene perché Franco Mistrali vuole farci credere che la sua è una storia vera quindi utilizza ogni espediente possibile specialmente se scientifico per dimostrare che è frutto in realtà di un'esperienza realmente vissuta. Inoltre possiamo definirlo un romanzo trattato poiché oltre a darci modo di cadere entro la fiction narrativa ci dà anche l'opportunità di scoprire la cultura ottocentesca tutta dal sentimento ambiguo nei confronti della scienza che per certi versi viene esaltata mentre per altri viene fatta cadere nella parascienza elogiando l'alchimia però utilizzata per fini malvagi ma vi è anche la glorificazione di esperienze ambigue infatti il personaggio del conte Costia che è minacciato da questa malinconia nutre un fascino assoluto per il turbamento e la follia tema che è particolarmente presente in questo volume Mistrali tra l'altro in questo testo si spinge tantissimo fino proprio al limite a parlarci del sangue il sangue infatti è un elemento essenziale per i vampiri e a mio avviso nelle rappresentazioni precedenti non aveva mai avuto una valenza del genere viene infatti all'interno di questo testo esaltato proprio il culto del sangue dal sangue si genera la vita e il sangue tolto uccide la vita in più viene evidenziato il parallelismo tra sangue e vino vita e sacrificio che è presente tantissimo nella cultura cristiana e nel sacrificio di Cristo per salvare e redimere il popolo lo stesso sangue che si mescola da origine all'incesto tema che viene trattato con particolare sagacia proprio da Mistrali in questo testo il romanzo inoltre è popolato da una serie molto ampia di figure misteriose come il santone Eliam che è uno dei personaggi più complessi di tutta la narrazione e ci permette di vedere due lati diciamo della stessa persona comunque in questo testo vedrete il cambio di identità di una serie molto grande di personaggi però ecco la sua storia è particolare e soprattutto interessante di fatti la scopriamo man mano che il testo si amplia alla Siberia e alla Russia scopriamo proprio in questo frangente come si è diventato mago e alchimista abbiamo inoltre un altro elemento preponderante della letteratura sia italiana che europea perché è stato un elemento venuto fuori presumibilmente credo che comunque l'origine sia quella dalla dalla teoria di Freud ovvero quella del doppelganger il tema del doppio infatti la pia ludviscoa che si sovrappone alla principessa metella da origine a questo topos letterario che era assolutamente molto indagato in quel tempo e questo ci fa vedere come sia stato declinato anche da mistrali vi ricordo che il tema del doppio è essenziale pensiamo ad esempio a uno dei romanzi più famosi ovviamente dottor Jekyll e Mr. Hyde grande spazio comunque viene lasciato anche al sentimento dell'amore l'amore turbolento che si impossessa del razionale e dell'inconscio quindi vediamo che Freud è stato comunque studiato su larga scala vediamo quindi che i temi sono tanti e spaziano nella cultura ottocentesca di più ampio respiro romantica e bohemian condita però dalla visione italiana che regala una luce nuova a questo genere e soprattutto a un testo perché lo rende unico e raro proprio nella sua natura passiamo al punto che forse più vi interessa ovvero l'esercizio della lingua in un testo del genere innanzitutto voglio chiarire una cosa il testo questo qui è stato ripreso dalla biblioteca di Lovecraft pari pari all'originale ovvero l'edizione del 1869 quindi quando leggete per esempio 80 puntini sospensivi perché uno dei personaggi sta pensando prima di parlare non è un errore della nuova edizione ma è una scelta da parte della casa editrice che ha voluto diciamo lasciare viva proprio l'integrità dell'opera non apportando questo tipo di modifiche che chiaramente sono necessarie per un testo che viene pubblicato e scritto nei giorni nostri inoltre sono presenti parole come per esempio anche in Tarchetti che oggi noi non usiamo parole desuete ma anche soprattutto termini che venivano scritti in altri modi uno dei più eclatanti è il termine facce che noi ovviamente scriviamo senza la i in questo testo la troviamo con la i è un errore al giorno d'oggi è un errore all'epoca no si scriveva in questo modo quindi leggete a mio avviso anche una testimonianza un documento di quella che era la lingua intorno all'ottocento tra l'altro l'italiano utilizzato è molto più complesso rispetto a quello di Tarchetti io faccio riferimento a lui perché è uno dei più famosi dell'epoca specialmente proprio in questo genere questo come dicevo in precedenza potrebbe essere comunque un ostacolo per chi non ha avuto approcci alla lingua italiana di quegli anni io personalmente l'ho amato in modo molto profondo anche in quanto documento e testimonianza del nostro patrimonio linguistico ma mi rendo conto che consigliarvi questo testo senza sottolineare comunque l'importanza della lingua e della costruzione frasale sarebbe un suicidio il periodare è infatti a volte lungo e anche tortuoso quindi prima di gettarvi direttamente su un testo del genere io vi consiglierei di partire da qualcosa di un po' più breve e anche più semplice a livello linguistico giusto settimana scorsa un paio di settimane fa ho pubblicato sul canale un video in cui vi consiglio tre romanzi gotici italiani e vi do anche un mio personalissimo parere riguardo l'ordine di lettura di quei tre titoli quindi se vi va a scoprire di quali altri libri sto parlando vi lascio il link su nelle schede giù nell'info box in modo tale che potete andare a recuperare anche quel testo e capire se questo questo volume possa fare attualmente al caso vostro oppure magari rimandare la lettura di qualche settimana e fare un po' di palestra con altri testi per me questa è una recensione un approfondimento molto positivo già solo per il fatto che l'editore ha scelto di salvare un'opera che era destinata assolutamente all'oblio nonostante diciamo tutti i piccoli accorgimenti che ho cercato di sciorinare in tutto il video per me questo testo è assolutamente amore spero che la biblioteca di Lovecraft pubblichi anche i racconti di Franco Mistrali racconti fantastici perché non vedo l'ora di leggere altro di quest'autore e quindi questa qui era la mia recensione il mio approfondimento sul vampiro storia vera di Franco Mistrali fatemi sapere se questo video è stato di vostro gradimento scrivetemi giù nei commenti altri testi magari sui vampiri che devo leggere assolutamente qualcosa anche di italiano io vado direttamente alla ricerca di tutto quello che ci ho scritto qui dentro nell'introduzione e noi ci vediamo al prossimo video con altre cose sempre bellissime meravigliose che fanno esplodere il mio cervello a presto ciao ciao